In attesa che Rocco Costantino dica sia la proposta di contratto fino a giugno 2021 in casa Teramo, a tenere banco sono le questioni che riguardano l'allargamento societario. Come svelato stamattina dai quotidiani Il Messaggero e la città, Nicola Di Matteo entrerà nel club bianco-rosso con una quota minoritaria ma pur sempre sostanziosa. L'imprenditore di origini campane ma trapiantato in Emilia sarà ufficializzato nelle prossime ore dal sudalizio bianco-rosso. Il suo ingresso potrebbe non essere l'ultimo, ma per il momento si innezza su una base già allargata dagli arrivi estivi di Mauro Schiappa e Luigi Di Battista che avevano rilevato il 10% pro capite delle quote. Di qualche giorno fa infatti, proprio sul Messaggero, l'ultimo appello di Campidelli affinché qualcuno si avvicinasse per dare sostegno al club, quando già però con Di Matteo era tutto fatto quasi. Il costruttore, che ha avuto esperienze anche con Imolese, Spalle e Mantova, domenica pomeriggio era infatti sulle tribune del Bonolis per Teramo su Tirol. L'assetto societario non cambierà poi molto, ma è evidente che qualche figura, espressione dello stesso Di Matteo, si innesterà sulla base già esistente. L'obiettivo, con una forza economica maggiore, è quello di riportare il Teramo a misurarsi con le big del girone tra qualche stagione. Nel frattempo, il diavolo, come detto, è un passo da Costantino. L'attaccante è rimasto soddisfatto della proposta che gli è stata avanzata e a ore dovrebbe dare l'assenso al trasferimento. L'affare col su Tirol è già stato impostato, mancano alcuni dettagli. L'accordo sarà di due anni e mezzo per un giocatore in grado di equilibrare la squadra dal punto di vista delle realizzazioni, finora a pannaggio quasi esclusivamente di difensori centrocampisti. L'arrivo di Costantino non sarà l'unico davanti, almeno nelle intenzioni della dirigenza. La regina preme per riavere Bianchimano dal Perugia, ma la presenza di Maurizzi sulla panchina bianco-rossa potrebbe giocare un ruolo determinante nella scelta del giocatore. Lunedì, intanto, Luigi Giorgi si sottoporrà alle visite mediche, che nel suo caso non saranno, come spesso accade, di rito. Al superamento delle stesse, infatti, è condizionato il perfezionamento del contratto. Il diavolo vuole capire le condizioni in cui è il calciatore e solo quando avrà la certezza dell'integrità dell'ex-ascolano renderà noto il passaggio. Nel frattempo, martedì, Maurizzi ritrova la squadra per iniziare a preparare il derby del 19 a 9 sera a Riviera delle Palme contro la San Benedettese. Mancano ancora molti giorni prima di tornare ufficialmente in campo, ma il Teramo lavora a fare i spenti, sia in campo che fuori, per dare ai propri tivosi un 2019 migliore dell'anno che si sono appena lasciati alle spalle.